Lucio Bisuto e Violetta, cantanti veneziani, musicisti e anche cuochi sopraffini del ristorante giorgione di Venezia. Allora, il tipico piatto del mare adriatico, branzino di mare, rombo di mare, code di rospo di mare con le verdure dei nostri orti veneziani, zucchine, radicchio e treviso, fungo, melanzane e carote. Tutto tritato con tutte le assenze della primavera. E questo è il piatto finito. Ma dopo i primi venti minuti metteremo anche un assaggio di sardoni del mare e qualche moleca. Così avremo un piatto super completo del nostro mare adriatico. Io preparo intanto delle carote, delle zucchine, delle melanzane, del radicchio di treviso. che andrà cotto insieme al pesce. Quello è il trucco di questo piatto. Che le verdure prenderanno il gusto del buon pesce fresco mentre si cucina. Allora, la giudeca, ho camminato la secca, tutta la pescaria, ho dalla poppa indrio ai tuoi castelli. e lì. Ho visto l'orotodè di aprile con tutte le vignole, dalle vignole in drio, mi sono veduto. Allora, la giudeca, ho camminato la secca, tutta la secca. Allora, la giudeca, ho camminato la secca, tutta la secca, tutta la secca. Allora, la giudeca, ho camminato la secca. Allora, la giudeca, ho camminato la secca. Grazie a tutti